Presentata all'evento di IAM Learning Network, la ricerca inflazione e investimenti, impatto su economia reale e investitori istituzionali, a cura di Alessandra Ghisleri, presidente Euromedia Research. Per quanto riguarda questa ricerca che abbiamo sviluppato per questo evento, abbiamo cercato di comprendere quanto gli italiani conoscono degli investimenti, dell'inflazione, come si rapportano con i propri risparmi, e soprattutto come cercano di investire quelli che sono i loro risparmi. Ci siamo accorti, intervistando mille italiani con un campione stratificato e quindi rappresentante di una mini Italia, che gli italiani per il 58% sanno correttamente cosa è l'inflazione, mentre ad esempio per il 34% pensano di conoscere i valori dell'inflazione ma danno almeno una risposta completamente errata. Inoltre per quelli che sono i parametri di ESG, solo il 13% ha dimostrato di conoscerli realmente, mentre invece la maggior parte ha espresso delle terminologie che sono molto lontane da quelle che poi riguardano gli investimenti nel campo del sociale, nel campo dei diritti, nel campo della governance aziendale, nel campo soprattutto dell'inquinamento e dell'ambiente. IAM Learning Network nasce per rispondere all'esigenza di garantire l'incontro tra investitori istituzionali e asset manager attraverso dei percorsi formativi dedicati. È stato molto interessante vedere istituzioni confrontarsi con casse previdenziali, fondi pensione, investitori istituzionali, SGR, gestori del risparmio privato. È interessante l'intervento della parte politica che ha compreso l'improduttività degli investimenti italiani in questo momento, nel senso che tutto questo denaro degli italiani sui conti correnti sono improduttivi. Se fossero anche in minima parte indirizzati verso l'economia reale, produrremmo crescita, prosperità e sicuramente un miglioramento del sistema economico del nostro Paese. Siamo in una fase estremamente delicata ed importante per la ripresa del Paese, nonostante alcune notizie ci facciano capire che la crisi pandemica non è finita ed è essenziale confrontarci su cosa significa per l'economia reale, per il Paese reale, come viene normalmente definito, ripartire. Ripartire significa ripartire dalle imprese, anzitutto dal lavoro, e significa porsi il problema anche di come sono aumentati i costi per le imprese, in particolare l'energia, che è un peso notevolissimo anche sull'inflazione, sulle questioni che vengono oggi qui affrontate. Il valore aggiunto dal convegno di questa mattina sta nel mettere insieme i grandi temi dell'economia, si è parlato dell'inflazione, della crescita economica del PIL, del PNRR, con le questioni sociali e con le questioni della finanza. Tra le questioni sociali mi sembra che sia emersa l'esigenza di avere una qualità del lavoro a cui collegare il processo economico. Tra le questioni fiscali mi pare che sia emersa con molta forza l'esigenza di favorire l'investimento nell'economia domestica e dei fondi pensione, che non solo devono ricercare il giusto equilibrio tra il rischio e il rendimento, ma nella ricerca della diversificazione degli investimenti debbono trovare modi anche incentivati da parte del sistema pubblico di investire nell'economia reale del Paese per creare una buona occupazione. È emerso anche oggi quello che ormai è patrimonio comune, ormai lo sanno tutti anche le teorie dei quotidiani. In Italia ci sono 1800 miliardi di euro fermi sui conti correnti perché le persone sono alla ricerca anche di investimenti sicuri. Ecco, sono un'enorme opportunità che potrebbe anche giocare un ruolo fondamentale in appoggio a supporto del PNRR. Quello che serve, serve un impegno anche da parte del governo, è quello che abbiamo chiesto, che a un certo punto vengano adottati degli strumenti, delle iniziative e degli incentivi anche finanziari per fare in modo che questi fondi del risparmio privato degli italiani possano entrare nell'economia reale delle imprese riconoscendo anche un rendimento sicuro ai risparmiatori e agli investitori italiani. Tema dell'inflazione, PNRR e imprese. Sono i focus di questa giornata. Quanto è importante parlarne e in che termini bisogna parlarne oggi? Intanto, come ho detto nel mio intervento, l'inflazione è come la febbre, non è di per sé un parametro negativo, è un parametro e quindi la febbre, se è molto bassa, è a 33-32, probabilmente l'organismo muore. Se è molto alta muore lo stesso, quindi bisogna tenerla in equilibrio. Se in questo momento l'inflazione un po' si sta muovendo, devo dire che dopo anni di stabilità, adesso inizia forse la crescita, visto che il patto si chiama di stabilità e crescita, quindi vuol dire che l'organismo è vivo. Ecco, questo è evidente. Poi bisogna sicuramente tenere d'occhio l'inflazione, sicuramente. Però non comincerei con troppi allarmismi. Per quanto riguarda il PNRR, è un'occasione, ricordiamoci che è un prestito, quindi è un debito, e bisogna gestire bene questi quattrini, soprattutto in cose che poi saranno visibili fra 10-20 anni. Perché se fra 5 anni ci guarderemo indietro e non resterà nulla di questo patrimonio, ma solo rimborsi da pagare, allora questo dobbiamo assolutamente scongiurarlo. Quindi occhio a come si investono questi denari e soprattutto che rimangano nel tempo. Quindi infrastrutture, infrastrutture importanti che portino ad esempio la logistica del nostro paese a conquistare la leadership, quella che merita, perché l'Italia è leader nel Mediterraneo, nel suo posizionamento geografico. Quindi abbiamo bisogno di infrastrutture per andare incontro a questo settore. E poi il lavoro, perché se non si parla di lavoro non c'è economia. Senza lavoro non esiste nessun tipo di economia, almeno se parliamo di economia sana. Poi se parliamo di economia a bolle, che ogni tanto scoppiano e qualcuno ci rimane sotto, beh, allora questo non è quello che noi immaginiamo per il futuro.